L'aria moderatamente fredda e in quota determina condizioni di instabilità. Giovedì 2 maggio in Toscana cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali, in particolare a ridosso dell'Appennino, dove sono attese deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio e in serata, venti deboli o localmente moderati da sud, mari poco mossi e temperature in aumento nei valori massimi. Cielo nuvoloso sulla nostra provincia. A Lucca temperatura minima 8, massima 17 gradi, a Castelnuovo minima 4, massima 20 gradi, a Viareggio minima 9, massima 14 gradi. Grazie.